Ecco le temperature registrate oggi alle ore 13 in Italia. Firenze 15, Ancona 18, Perugia 14, L'Aquila 15, Pescara e Roma 20, Campobasso 16, Bari 20, Napoli 18, Potenza 16, Taranto 19, Reggio Calabria 23, Palermo 20, Cagliari 21. La situazione. Sull'Italia la pressione è in diminuzione sulle regioni settentrionali. Ed ora il tempo previsto per la giornata di domani. Al nord, sulla Toscana e sulla Sardegna, nuvolosità irregolare. Nel corso della giornata, intensificazione della nuvolosità sul settore occidentale, dove saranno possibili piogge intermittenti. Sulle altre regioni, generalmente poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti sul medio versante tirrenico. La temperatura è senza variazioni di rilievo. I venti, da deboli a moderati intorno sud. Mari, mossi il Mar Ligure e il Mar di Sardegna. Poco mossi i rimanenti mari. È tutto.